Grazie Mandiamo sul gruppo la posizione di quella chiesa là Scusami, la Maria del Mar No Camilla tranquilla, impalli sempre le inquadrature La Rambla Giovanni Laura Laura La visita che miro in il video Laura Posso parlare in spagnolo? Hola! Ora siamo in la Rambla in Barcelona con i bambini di San Tilario siamo in GMG che è il ragione per i bambini di tutto il mondo che segue in Cristo Buon giorno ese non è non è non è no non è non è no ma punto Grazie a tutti. Sì? Che cosa sa? Flavio Ci troviamo davanti all'ingresso est della Sagrada Famiglia dove tra poco effettueremo l'accesso per la celebrazione hanno aperto la Sagrada Famiglia solo per noi ragazzi della GMG Ci troviamo all'interno della Sagrada Famiglia in attesa del principio della celebrazione Speriamo venga presto Speriamo venga presto perché non ne possiamo più Dio dell'altissimo Povero del povere Viene di morale e bravo Dio dell'impossibile Viene di tutti i segnali Viene di me la tua maestà Viene di me la nuve 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.